Massimo Benigni, giornalista del quotidiano La Nazione, aretino appassionato ed esperto conoscitore della giostra del Saracino. Insignito del premio alla carriera nel 2013, ha contribuito alla promozione e valorizzazione della giostra attraverso il suo operato giornalistico e letterario. Coautore dello storico volume fotografico sulla giostra del Saracino, Benigni ha ricoperto ruoli attivi all'interno di associazioni e autorevoli organi giostreschi. Negli anni 80 è stato presidente del gruppo musici e ha ricoperto il ruolo di giudice e di magistrato della giostra negli anni 83-85 e 91-93. Sempre presenta gli appuntamenti della giostra per raccontarne cronache e curiosità fino alla edizione di settembre 2015, è scomparso nell'ottobre 2015. Con la sua curiosità, sempre in cerca di notizie e aneddoti, ha apportato un significativo contributo nell'accrescere la partecipazione della città agli eventi giostreschi, coltivando la passione tra le generazioni di aretini cui sta a cuore la giostra del Saracino. In sua memoria sarà corsa la prova generale di giovedì 16 giugno 2016. Ritira la targa alla moglie Graziella con le figlie Sara e Ilaria. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.